il geometra con gli stivali vuole fare sempre meno fatica e vuole condividere con voi gli artifici giusti che ci fanno risparmiare tempo e quindi fatica in questo breve video. Buona visione da Pino Mangione. Spesso noi pensiamo erroneamente che impiegare del tempo per fare una buona perlustrazione per capire come battere il pf ci faccia perdere tempo. In realtà come illustrato in un video precedente è la cosa che ci fa davvero guadagnare tanto tempo. Usare gli artifici è un grande vantaggio. Non battere direttamente il pf sullo spigolo con il prisma o con il gps ci fa davvero risparmiare non solo tanto tempo ma aumentare moltissimo la precisione dei nostri lavori. In un piccolo video sarebbe difficile illustrare tutti i casi possibili e gli esempi pratici per come risolverli. Ecco perché ho estrapolato un pezzo del mio libro edito della Maggiori su Pregeo in cui illustro con disegni, esempi pratici, tipi di riga come risolvere ogni caso di intersezione, sia se usiamo la stazione totale, sia se usiamo il gps o se vogliamo lavorare direttamente con le lineamenti. Usare gli artifici ci fa guadagnare tempo, quindi denaro, ci aumenta la precisione del rilievo e ci mette nella condizione di non superare mai il numero minimo di stazioni previsti per normativa. Da questo stesso articolo puoi scaricare un pdf estratto dal mio libro per Pregeo edito Maggioli in cui troverete metodologie, esempi pratici, grafici e come compilare le righe di Pregeo per ciascuno dei seguenti artifici. Spigolo pf non visibile direttamente dalla stazione celerimetrica, punto fiduciale o punto generico battuto solo per angoli, spigolo pf non leggibile direttamente con l'antenna gps, prolungamento dell'allineamento, il calcolo del dislivello del pf e quindi la sua quota solo con delle misure di allineamento e squadro di livello. L'iperdeterminazione pf con celerimensura e allineamenti, ma soprattutto come potere iperdeterminare i pf battuti con il gps. Nella prossima puntata vedremo cosa fare nel momento in cui sarà necessario scaricare i dati del tuo strumento e portarli sul tuo pc. Vi aspetto tutti alla prossima puntata e utilizza gli artifici. Buon lavoro da Pino Mangione.